Musica Riunite in comitato 20 aziende che hanno prestato servizio presso la Tecnova nel settore del fotovoltaico ora provano dopo il crack a far valere i propri diritti e le loro spettanze attraverso il fondo di garanzia a monte dell'investimento primario. Oltre 100 è posti di lavoro a rischio ma i lavoratori provano almeno a recuperare gli stipendi arretrati. Incontro in prefettura tra i rappresentanti del fondo di garanzia e i legali del comitato di lavoratori un'opera di mediazione da cui è scaturita l'intenzione di venire incontro alle esigenze degli ex lavoratori Tecnova. Noi abbiamo chiesto più volte al prefetto, alle istituzioni, alle associazioni di categoria un incontro con il GSF perché il problema dei fornitori si è risolto in tempi rapidi al fine di evitare la chiusura e il licenziamento di lavoratori. Noi parliamo di un buco lasciato da Tecnova che ammonta ad oltre un milione di euro questo buco ha determinato la crisi delle aziende fornitrici le quali avevano investito nel fotovoltaico e oggi si trovano senza liquidità perché ogni azienda ha un credito che supera l'importo di 100-200 mila euro nella maggior parte dei casi, soldi che non sono entrati nelle casse delle aziende e che oggi sono in una situazione di grave crisi. Noi sappiamo che il problema giuridicamente è difficile risolverlo almeno in tempi stretti, in tempi brevi. Sappiamo che il fotovoltaico è un investimento per il territorio che può portare ricchezza però riteniamo che questo investimento può andare avanti sul territorio a condizione che sia risolto il problema dei fornitori evitando che siano lasciati strascichi sul territorio che possano portare alla morte delle imprese salentine. Grazie a tutti.